Dite che sono un dittatore sanguinario e paranoico, blindato nella mia fortezza, irraggiungibile? E io spalanco le porte del Cremlino a un gruppo di giovani e converso amabilmente con loro, distribuendo sorrisi e rassicurazioni. È tutta scena, ma Putin ci ha fatto una carriera sulla disinformazione. L'ex ufficiale del KGB non cambia certo stile per una guerra, anzi una operazione militare speciale, come la chiama. Porterà la pace nel Donbass. Siamo stati costretti a intervenire per difendere la gente come te, dice tutto il tranquillo a una ragazza che viene da quelle parti. Se questo è il capo, figuriamoci sottoposti. La portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, che ha deriso che annunciava l'invasione, ha negato il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol e definito il macello di bucia un falso, oggi dice che loro, i russi, non hanno più fiducia nei negoziatori ucraini, che a Kiev è tutto un circo e comunque hanno inviato una bozza per i colloqui. Zelensky invece martella il solito chiodo. Se voi occidentali ci davate tutte le armi di cui avevamo bisogno, questa guerra sarebbe già finita. C'è da dubitarne. Vista la furia degli uomini di Putin, a quest'ora tutta l'Ucraina sarebbe ridotta come Mariupol. La storia non dimenticherà questi crimini di guerra, dice il presidente del Consiglio europeo Michel, visitando Borodianca, dove i russi hanno fatto scempio. Mentre la proposta del segretario Ono Guterres, una tregua per Pasqua, gli ortodossi la celebrano domenica, è stata subito scartata. I russi sono troppo occupati a devastare, ammazzare, stuprare, deportare. Gli ucraini pensano solo a difendersi, armi in pugno. Biden ne ha promesse un'altra caterva. L'Europa si adegua e prepara il sesto pacchetto di sanzioni. Dovrebbe esserci lo stop al petrolio, ma la Germania tentenna. Gli ucraini sono infuriati anche perché il cancelliere Scholz ha detto che non darà né carri armati né caccia. Poi c'è la partita cruciale del gas, che scalda le nostre case e muove le industrie.